è stato all'inizio per me era spiazzante perché suonare in playback non è facile all'inizio è stato divertente c'è stata un po' di sfortuna perché diluviava e volevamo fare alcune riprese in esterna che non sono state potute fare e anche lì un'altra cosa bella che a me piace dell'ambiente musicale è che il ragazzo che ha fatto il video Sergio lo conoscevamo già può dire che nome e cognome non è che aspetta un attimo nel frattempo c'è Robin che ci pensi ha detto che non ha tenuto una ciocca dritta per il ricordo della serata del concerto va bene grande sound e coinvolgimento da poco bene bene sono contento ci siamo divertiti molto a Isola Rocca Invernale e la moglie di Sergio è quella che è Silvia Belloni ha fatto le foto del disco quindi è stata tutta una cosa in famiglia siamo Sergio Colleoni che ha fatto il video e Silvia Belloni che ha fatto le foto ci conosce da un po' di anni quindi è stato un clima molto anche lì allegro disteso due giorni di riprese la prima per fare le parti suonate e l'altra per le parti non suonate più da video diciamo le immagini aggiuntive esatto è stato divertente perché abbiamo visto Claudio venire impiastrato e truccato dalla truccatrice e sono contento che si sia offerto lui per fare quel lavoro e poi è giusto che sia il cantante è lui che deve dare l'immagine non siamo solo musicisti stiamo più indietro ma guarda è una cosa che dico sempre tiro le orecchie alle band una volta si suonava e si cantava insieme adesso c'è il cantante fai te ma perché a me non piace farmi pitturare in faccia quindi lascialo fare no ma più che altro fare il discorso di cantare insieme di alternarsi ma infatti lui ha fatto quello noi senza essere truccati abbiamo fatto un'altra parte così siamo a posto no poi la cosa che dicevo che mi piace la musica conosci persone nuove e con la ragazza con la truccatrice poi è nata l'amicizia con tutto il gruppo altre persone in più che conosci che ti porti nella vita dopo mi prendevano in giro il secondo giorno perché mentre sistemavano Claudio che dovevano metterli in una posizione per riprendere piuttosto che un altro io da youtube facevo partire canzoni e mettevo solo canzoni allegrissime dicevamo sto facendo un video metal e io mettevo i giorni volevo ascoltare solo quelli infatti Fibi dice ma sei ben educato non sei da metallaro tutti ci aspettano che i metalli siano sempre brutti sporchi e cattivi non gliel'hai detto che puzzo se bevi grappa però sei perfetto anche a Bergamo se non bevi la grappa sei diseredato non si può fare niente abbiamo trovato qualcosa in comune Fibi riguardo la grappa ho visto che tra l'altro in Bulgaria mi hai detto che la grappa la fanno con le mele allora la devo provare ecco vedi non bisogna andare là a suonare per forza assolutamente ma guardiamo di Clockwise la vivo in Bulgaria solo per no perché sarebbe da fare veramente se si riuscisse e devi perseverare su queste cose magari rapisci il resto della band gli addormenti si svegliono la mattina come si faceva come nell'A-Team come nell'A-Team poi si ritrovano in volo o in un altro paese in realtà era B e Baracus che lo addormentavano ecco c'è una domanda di Fibi sei dell'Atalanta? no perché non mi piace il calcio per cui io e il calcio siamo due mondi diversi sai anche tu come Amos che diceva che sì io ero tifoso del Bologna però adesso non vado più vedere le partite lo stadio perché il calcio è tutto finto lui è andato giù pesante no io proprio fin da bambino non mi ha mai interessato cioè io avevi i vicini di casa i tuoi coitani da bambini giocavano a calcio Puglio si è disperato non sei difuso dell'Atalanta eh no io anziché a giocare a calcio le partite stavo a casa suonare pianoforte da bambino poi magari scopriamo che ha la bandiera della Binoleffe no mi piaceva la palla a canestro guardavo seguivo quello ah bene eh niente no dice no che gli hippie puzzano ho detto Fibi eh pazienza si viva gli hippie qua siamo ci sono gli hippie io e i hippie siamo due mezzi nerd hippie insomma non si capisce siamo un mix noi metallari nerd hippie complimenti intanto dice Roberto all'efficiente organizzazione di Zola Rock è bella anche la stretta ristoro open space con sottofondo metal eh sì e poi ho mangiato di quelle piadine anche lì che erano incredibili da panico allora tornando a noi appunto da videoclip beh sì hai già raccontato tutto più o meno sì è stata proprio una cosa molto semplice fatta abbastanza in casa low budget sì però sta piacendo e sono contento del risultato ecco ti mostra lo stemma dell'Atalanta se lo vedono i miei compagni delle superiori impartono i cori dell'Atalanta in maniera incredibile mi arrivano in chat con i compagni di scuola capisco cosa fa l'Atalanta perché mi arrivano alle immagini eh beh un po' come da noi qua nel veronese che sono tutti fanno della Sverona dal Chievo anzi addirittura il Verona è anche più una sorta di religione pagana l'ho intuito quello ma guarda qui so che i tifosi dell'Atalanta sono belli cattivetti ma sì facciamo gara mi sa i tifosi del Verona sono cattivi poi il Verona ha vinto lo scudetto a Bergamo per cui sono successi anche dei incidenti mi pare quel 1984 85 qualcuno si è fatto anche del male a noi è stata di fortuna che Atalanta e Brescia non sono più in Serie A insieme o in Serie B insieme per cui se no era un disastro ogni volta beh anche guarda che i tifosi del Verona sono tremendi no ma proprio quando si scontravano c'era odio pure allo stadio tra l'altro Pibio dice questa è la tutta dell'Atalanta dei tempi di Evair e Canigia beh che avevano anche i capelli lunghi Canigia era famoso anche il Verona perché gli cantavano Dacci la coca Canigia Dacci la coca Dacci la coca Sparivano le ricche dal campo quando entrava assolutamente poi Zenga l'ha visto quella volta ricordi di calcio triste vabbè ritorniamo un attimino a noi The Blue Screen of Death è un po' il vostro singolo dai eh sì è il primo pezzo che abbiamo fatto lì in video perché da Garevelli avete detto ma sai The Blue Screen of Death è uno dei pezzi nostri più singoli penso che è stato l'ultimo pezzo composto per il disco mancava due o tre mesi prima di andare in studio e ero lì cacchio non c'ho il pezzo apertissimo come c'era sul giro sul disco precedente con Carry The Fire e un giorno a festeggiare il Capodanno sento partire Black Star dai Carcass dico ma cazzo ma io però adoro sto ho detto cazzo non ti preoccupare noi siamo irriverenti io adoro sta roba qua è troppo bella voglio fare un pezzo inizio con un riff un po' alla Carcass melodico così e così è nata Blue Screen of Death sono tornato a casa dopo i festeggiamenti di Capodanno mi sono ripreso qualche giorno dopo e poi ho fatto il pezzo e l'ho mandato a Claudio tra l'altro dice Roberto raga ho usato il vostro adesivo come cerchiografo per le lezioni di geometria mio figlio lo vedo contento e quindi aspetto il goniometro Anticolockwise graduato a 360 ok saranno le prossime dobbiamo farlo per forza assolutamente qua il merchandise ribolle assolutamente e dicevi appunto di Blue Screen of Death si lì è Blue Screen of Death citazione di quando cresceva il sistema operativo ti veniva la schermata blu come dire andato finito tutto non ci puoi più fare niente comunque la luce del cellulare è anche voglio dire quella blu del cellulare sì però l'idea è proprio partita da quella schermata del sistema operativo quando succedeva questi danni al computer e lì l'idea di Claudio è partita da lì perché tra l'altro non so se voi avete visto c'è un film da horror che mi ha ricordato questo Blue Screen of Death che è Cell non so se l'hai visto è con John Cusack è uscito credo quest'anno l'anno scorso ed è lo screenplay